Sono il dottor Giuseppe Aronna, medico dentista, perfezionato in parodontologia all'Università di Göteborg in Svezia e ho partecipato a un programma di continuing education all'Università di Harvard a Boston, sempre in parodontologia e in impianti. Da oltre 25 anni mi occupo di riabilitazioni implantoprotestiche, cioè dei denti supportati da impianti. Oggi ti spiegherò perché è davvero importante la visita specialistica implantologica. Dalla mia esperienza ho notato che molte volte le persone non sanno realmente qual è la loro problematica e si limitano a descrivere il proprio disagio funzionale ed estetico, avendo paura delle loro condizioni e magari pensano che semplicemente inserendo un impianto possono risolvere il problema, concentrandosi così solo sull'aspetto economico e del preventivo. Invece la visita implantoprotestica consente di dare tutte le risposte in quanto un'attenta diagnosi clinica e uno scrupoloso esame radiografico ci consente un'attenta diagnosi e un altrettanto esaustivo piano di trattamento. La discussione con il paziente e la valutazione delle esigenze dente può portare al successo terapeutico. Vi sono appunto casi in cui manca l'osso e quindi occorre rigenerarlo per avere una qualità di osso sufficiente per l'insezione degli impianti e per un buon supporto in sicurezza della protesi. In alcuni casi se ci sono le condizioni è possibile il carico immediato, ovvero dopo l'estrazione del dente viene inserito l'impianto nella stessa seduta e viene messo il dente per cui il paziente torna a casa già con il dente supportato da impianti. Perciò la visita implantologica è in grado di dare numerose risposte e nello stesso tempo consente al paziente di decidere insieme all'implantologo qual è la migliore soluzione terapeutica e soprattutto di farla reagire nello stesso momento in cui si è fatto il piano. Se la tua situazione continua ad andare avanti non trascurarla perché così non la risolverai. La fila di un bravo implantologo e insieme troverete la soluzione migliore. Spero che questo messaggio ti sia d'aiuto per trovare la forza per risolvere i tuoi problemi. Un caro saluto dal tuo implantologo Giuseppe Arona di Lugano.